E' attesa per oggi la decisione sull'eventuale abolizione delle zone gialle in Italia. Il Consiglio dei Ministri in programma nel pomeriggio si annuncia infuocato perché all'interno del governo Draghi si scontreranno due anime, quella dei cosiddetti aperturisti capitanati dalla Lega e quella dei rigoristi con in testa PD e 5 Stelle. Il Consiglio dei Ministri odierno infatti è chiamato a varare il nuovo decreto anti-Covid che entrerà in vigore il 7 di aprile fino a fine mese. Se per le scuole, dopo le parole del Premier Draghi, sembra ormai certa una riapertura blindata anche in zona rossa, unico lusso secondo il Presidente del Consiglio che l'Italia in questo momento può permettersi, per quanto riguarda le attività commerciali il dibattito è tutt'altro che finito. La Lega vorrebbe un automatismo che consenta al di sotto di un RT pari ad uno per una settimana di riaprire e tornare ad una quasi normalità di vita, prospettiva che però spaventa CTS e Ministero della Salute. Le regioni spingono per allentare le restrizioni sulla base dei dati e a questo partito si iscrive il Presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, secondo il quale sarebbe una vera e propria persecuzione per l'Abruzzo restare confinato in zona arancione nonostante i dati da zona gialla. Ci penalizza perché noi questa è già la seconda settimana in cui avremmo dovuto registrare il giallo come regione, quindi a riaprire bar e ristoranti fino alle 18, permettere la mobilità all'interno di tutta la regione e così via. Non è accaduto, adesso che c'è l'intenzione dopo Pasqua, quando si poteva riaprire, di continuare a tenere chiuso per altre quattro settimane, lo ritengo una ingiusta persecuzione nei confronti di alcune categorie che per pregiudizio devono restare chiuse. È vero che ci sono tante regioni, come ricordava ieri il Ministro Speranza, ancora in rosso e che circa 40 milioni di italiani vivono in zona rossa, noi siamo arancioni, ma soprattutto nessuno contesta il fatto che chi sta in rosso ci debba rimanere fino a quando non calano i contagi. E' quello che è accaduto a Pescara, a Chiedi e all'area metropolitana che abbiamo sottoposto a misure restrittive per questa ragione. Ora che i contagi sono calati, credo che sia corretto, nei confronti dei cittadini e delle aziende, rispettare quell'impegno, quel patto, e cioè che quando i contagi calano si lavora, si apre, quando salgono si sta tutti insieme ad accettare le regole, ad adottare restrizioni.